Spagnola, una delle nuove specialità di Cardor in vaschetta trasparente. La sua bontà si riconosce a prima vista. Cremoso gelato alla vaniglia, arricchito da squisita marena. Un gusto così ricco va condiviso. Spagnola e le altre nuove specialità di Cardor. Un piacere da condividere. Da Alcida. Un piacere da condividere.